Reazioni e auguri a Biden da tutto il mondo, messaggio di Papa Francesco, promuova riconciliazione e autentica giustizia. L'Unione Europea, abbiamo di nuovo un amico alla Casa Bianca, dice von der Leyen. In diretta il corrispondente, Gavino Moretti. Sì, diciamo subito, dalle capitali d'Europa sono molti gli auguri di buon lavoro inviati a Joe Biden. Da Roma il Premier Conte definisce importante quello di oggi, va oltre i confini americani perché è un grande giorno per la democrazia in tutto il mondo. Per Ursula von der Leyen, dopo quattro anni c'è di nuovo un amico alla Casa Bianca. Davide Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, ha invitato Biden a Bruxelles per lavorare insieme al bene comune. Un invito anche da parte di Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo per un vertice internazionale a Bruxelles con i leader dell'Unione. E anche da Londra il Premier Britannico Boris Johnson si dice impaziente di lavorare insieme a Biden e a Kamala Harris sulla scena internazionale. Da Bruxelles tutto, lì ne vuoi. Ed è con noi Francesco Costa, Vice Direttore del Post. Buonasera.